Siamo con Giovanni Argento che è il titolare dell'hotel Rio di Finale Ligure. Buongiorno Giovanni, come stai? Tutto bene? Buongiorno Roberto, tutto bene, siamo qua in questa bellissima giornata di sole, abbiamo riaperto l'albergo. Vedo che effettivamente è tutto un po' come prima, non è cambiato molto. Abbiamo riaperto, i nostri clienti stanno ritornando, anzi ci chiamano tantissimo, abbiamo applicato il protocollo sanitario con le misure previste. Per cui arriva, sanificazione, tutto quello di stanziamento sociale, però per il resto è tutto come prima. Non ci sono particolari gap in albergo, si tratta di contingentare un po' gli ingressi in piscina, il centro benessere, ma tutto nella norma. Niente che non si possa fare con tranquillità, per cui anche ho visto i turisti in giro per finale, sono tutti rispondendo bene. L'hotel è finale pronto e siamo fiduciosi che se il tempo ci aiuterà faremo una buona estate. Benissimo, per quanto riguarda la ristorazione è rimasto anche lì tutto invariato? La ristorazione è rimasto invariato, nel senso dove avevamo i buffet, i nostri ragazzi aiuteranno e seguiranno il cliente fino al tavolo. Per cui non c'è più il buffet, ma lo consegnano. Un buffet servito, sarà un buffet servito sia in sala ristorante, sia in sala colazione, ma le misure le abbiamo assolutamente rispettate, in quanto avevamo spazi a sufficienza per poter gestire questo protocollo. Benissimo. Da dove arrivano i vostri clienti principalmente? Nord-Ovest e Nord-Est, quindi Nord-Ovest, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e alcuni dal vento stanno arrivando. Tanti dal vento, sì. Per quanto riguarda il mercato straniero? Il mercato straniero si sta piano piano riprendendo, cominciamo ad avere i primi svizzeri e i primi tedeschi. Rispetto all'anno scorso o gli altri anni precedenti, quanto è stata la perdita in questi mesi di lockdown? La perdita è stata notevole, qui siamo, essendo noi una struttura che lavora praticamente 10 su 12, abbiamo perso 4 mesi e mezzo di lavoro, in più tutte le prenotazioni che erano già confermate per l'estate e alcune per timore non hanno attualmente pensato di venire giù, ma la perdita è notabile, siamo nell'ordine del 70-80%. Benissimo, tanta positività qui a Finale Ligure e pertanto invitiamo i turisti a venire in tutta tranquillità, appunto, a Finale Ligure, l'hotel Rio, Giovanni Argento, il proprietario. Bene, vuoi dare i numeri di telefono, i dati per poterti contattare? Certamente, cari amici, cari turisti, contattateci allo 019 601726, il nostro sito internet www.riohotel.it o mandate una mail info.riohotel.it Vi aspettiamo a braccia aperte, grazie, ciao a tutti! Grazie a tutti!